Per la rubrica dedicata alle vostre segnalazioni ci occupiamo per l'ennesima volta delle perenni perdite idriche che si trovano in via Ghezzi a Sciacca, un problema che evidentemente né girgenti acque prima né laica adesso riescono o sono in grado di risolvere. L'acqua si disperde da anni e qualche intervento tampone non è bastato per superare la problematica. In zona vengono segnalate pure le pessime condizioni in cui versa la segnaletica stradale ormai arrugginita dagli agenti atmosferici. In questo caso la competenza è dell'ANAS che non risponde alle sollecitazioni in merito. Si dovrebbe intervenire celermente perché questa arteria stradale è quella che conduce verso gli alberghi di Sciacca Mare e verso il Castello Incantato, uno dei luoghi maggiormente turistici della provincia del Grigento. E passiamo in via Dante di Ghieri. A quasi tre mesi di distanza dalla violenta alluvione che ha colpito Sciacca, l'area è ancora sporca e i rifiuti, trascinati dal fiume Canzalamone, non sono stati smaltiti. A protestare i residenti che chiedono nuovamente l'intervento dell'amministrazione comunale e delle ditte incaricate. Come si evince dalle foto che vi mostriamo, in via Lighieri, ma anche in via Giulio Cesare, sono presenti canneti, pneumatici abbandonati e fanghiglia. Una situazione indecorosa che andrebbe affrontata e risolta nel più breve tempo possibile e crea disagi dal punto di vista igienico-sanitario. Ancora rifiuti, questa volta protagonisti, gli incivili, che non mancano mai. Ci troviamo incontrato a Lazzarino e queste sono le condizioni della zona. Materiale edile abbandonato, sacchi neri, plastica, persino quaderni scolastici. Chi ci ha trasmesso le foto è sicuro che, se solo si volesse, sarebbe semplice individuare i responsabili di queste nefandezze, posto che, tra i rifiuti e sui quaderni, si individuano facilmente nomi e cognomi. L'ennesima area, insomma, che andrebbe bonificata e magari maggiormente controllata con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza. Infine, problemi nel servizio di pubblica eliminazione nel rione Vittorio Veneto, un disservizio che dura da circa un mese e che crea difficoltà a tante persone anziane che non possono uscire e rientrare in casa in sicurezza, a causa del buio pesto. Il comune, scrivono i residenti, ci indirizza verso un'azienda, che a sua volta ci indirizza ad un'altra azienda, che a sua volta ci dà un numero verde, a cui non risponde mai nessuno. Pali di pubblica illuminazione, a funzionamento alternato, pure in via e in Audi. Alcuni funzionano e altri no, a causa probabilmente di lampade fulminate. Anche in questo caso si chiede una pronta risoluzione di questi problemi. Grazie a tutti.